buongiorno a tutti allora magliettina di pagliuca perché mi sono arrivati un po di messaggini dai miei follower nerazzurri che mi dicevano a gigi guarda che domenica contro il benevento giocano con le riserve faremo la solita figura di m come con il pordenone eccetera eccetera allora sono andato a vedere su sul web sky la probabile formazione che teoricamente dovrebbe giocare con il benevento quindi non gioca andanovic gioca padelli cosa che si è spesso fatta in coppa italia e ricordiamoci che padelli con il pordenone ha parato il rigore decisivo quindi è stato decisivo in ogni caso non ha fatto paperate anzi poi in difesa giocherà d'ambrosio miranda e ranocchia ed albert dall'altra parte a centrocampo giocheranno borca valero gagliardini e naingolan in attacco teoricamente ha messo che ita e lautaro martinez più probabilmente uno tra candreva e politano oppure peris vedremo però uno dei quindi la squadra non è così scarsa come certo in difesa abbiamo ranocchia miranda che sono un po lentini ecco diciamo diciamo che sono un po lentini perché miranda ha una certa età quindi non è più scattoso a senso della posizione eccetera e poi abbiamo un ranocchia che non gioca praticamente da inizio campionato si allenerà bene tutto quello che volete ma non ha i 90 minuti nelle gambe è vero che per un difensore il discorso è diverso però dovrà stare un attimino attento anche perché il benevento non è una squadra di serie b da medio bassa classifica il benevento si sta giocando la serie a quindi scarsa non è e non possiamo permetterci di prenderla sotto gamba però francamente se con il benevento fai giocare nuovamente la formazione titolare le riserve cosa ti servono a fare sono proprio in emergenza estrema 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 capito però poi se entrano in emergenza estrema 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 che hanno 60 minuti nelle gambe perché giustamente non giocando mai non hanno ritmo partita capite che anche lì è problematico poi naturalmente è venuto subito fuori ecco giochiamo in coppa italia con le riserve vedrai che giocheremo anche in europa league con le riserve allora penso che la coppa italia sia una cosa e l'europa league sia un'altra cosa anche perché per noi l'europa league è forse più importante del terzo posto cioè io francamente noi dobbiamo arrivare nelle prime quattro però se mi posso giocare la cella l'europa league fino alla fine io metto a rischio anche il terzo posto non mi interessa arrivo anche quarto tanto abbiamo un vantaggio da gestire adesso abbiamo due mesi in cui non c'è un mese e mezzo ecco in cui non c'è l'europa league quindi abbiamo la possibilità visto che non è che abbiamo delle super squadre da affrontare certo c'è il torino c'è il sassuolo nostra bestia nera altre squadre ma fino al verbi che se non erro è la nona sì c'è la fiorentina ma non sono la juve la roma il napoli che ne so la sandoria eccetera eccetera ci sono squadre che lottano per l'europa league o per giocarsi il campionato tranquillamente quindi possiamo recuperare fare un po di punti e mettere un po ancora un po di fiero in cascina per mantenere o aumentare il distacco con la quinta perché la quarta anche se ci raggiunge arriviamo quarti non muore il gatto perché contano i primi quattro posti certo arrivare terzi vuol dire qualche soldino in più quindi credo che in europa league spalletti di turnover ne farà veramente poco eventualmente farà giocare che tabalda al posto di perisic potrebbe far giocare candreva al posto di politano perché comunque candreva non è che sia proprio uno scarsone certo se gioca politano è meglio però potrebbero alternarsi un attimino loro due in attacco i cardie sarà la punta e a centrocampo farà giocare i centrocampisti che potrà permettersi di schierare perché adesso vedremo a fine gennaio col nuova lista per l'europa league se non ero dovrebbero quella nuova dovrebbe essere presentata a fine gennaio vediamo anche se arriva qualcuno nuovo qualche giocatore nuovo di rinforzo che si potrebbe teoricamente utilizzare l'europa league staremo a vedere quindi aspettiamo un attimo a fasciarci sempre la testa io non posso perché non capelli che ne minga perché ci facciamo sempre la testa ancora prima di essercela rotta calma è normale giochi col benevento squadra di serie b è giusto dare qualche chance anche ai giocatori che non giocano mai anche perché comunque a parte ranocchia miranda ha giocato spesso titolare d'ambrosio ha giocato spesso titolare d'alber stava giocando bene prima che si infortunasse che sembrava finalmente essere tornato decente centrocampo borca valerio galliardini angolan non è da buttare via e in attacco diamogli delle chance a lautaro martinez quando ha giocato col cagliari ha giocato bene anche segnato col napoli entrato ci ha segnato il gol vincente dall'altra parte c'è che tabalde che sta piacendo quasi più di perisic e dall'altra parte vedremo se farà giocare politano candreva non è che una squadra così scarsa o che cosa per di più giochi contro una squadra di serie b quindi se i ragazzi entrano in campo con la voglia di giocare non come ha fatto col pordenone che si sono mangiati l'impossibile tra l'altro la partita col pordenone che tutti hanno giocato male abbiamo fatto 0 a 0 col pordenone prendiamo due pali sbagliamo tutto quello che c'era da sbagliare certo anche il benevento ha avuto due o tre occasioni ma noi ne avremmo avute 20 potevamo finire 10 a 3 quella partita o 10 a 1 se avessimo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto è che capitano quelle partite in cui puoi attaccare 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 non la segni mai però stiamo calmi c'è subito un dio giocare a nokia mamma mia c'era nokia non è che è scarsissimo se lo metti in difesa con di fianco miranda il suo lo fa certo gli può capitare lo svarioncino ma gli capita una volta io mi auguro che l'inter sia in grado di fare almeno due gol al benevento in modo che se eventualmente c'è l'errorino non facciamo la figura di m di andare a casa anche col benevento o di andare ai calci di rigore addirittura col benevento mi auguro anche perché tenete conto che cardi ha perso l'aereo quindi inizierà oggi gli allenamenti quindi ha perso già un giorno di allenamento e magari spalletti lo vuol tenere bello fresco per le prossime partite e portarlo in bello carico bello a posto per la partita col sassuolo che è la prima di il campionato a san siro per di più saremo a porte vuote sia col pordenone sia tra virgolette con con il sassuolo anche se forse riusciranno a far entrare i ragazzini nella tribuna arancio sperando che non si mettano anche loro a fare gestacce e cose simili perché se no veramente è inutile bene detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate della probabile formazione che metterà a spalletti contro il benevento in coppa italia e se siete fiduciosi per l'europa league che naturalmente la giocheranno seriamente e con i titolari io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao ciao